Effettivamente c'è una differenza francese di approccio? La francese si sa sempre, perché la Francia è un paese anche per ragioni velleitarie che si percepisce mondiale e quindi ha un'idea anche dell'Europa, sapevo dire divertente vedere quando noi scambiamo l'idea francese dell'Europa per la nostra perché per la Francia l'Europa è la piattaforma di sé, cioè la magnificazione della sua influenza nel caso specifico la Francia, guidata per atto da un presidente peculiare, geniale, nelle sue esternazioni come Macron ha un'idea di sé che va oltre questa guerra. Se noi facciamo un brevissimo passo indietro, qualche tempo fa Macron dichiarò l'Europa esiste da Lisbona a Vladivostok, al di là dell'aspetto geografico che è perlomeno discutibile visto che Vladivostok si affaccia quasi sul Giappone ma al di là di questo ciò che intendeva dire è che non può esistere Europa senza Russia tutta la Russia, quella europea e asiatica l'idea macroniana è quella di, avendo visto disinteresse, che era un disinteresse in realtà fasullo degli americani per l'Europa, ricorderete la famosa dichiarazione, la morte cerebrale della Nato che non diceva piangendo Macron, diceva sollevato evidentemente da buon francese nella sua idea questo significava l'inizio di una via europea, cioè francese, alle cose il ritorno massiccio degli americani sul continente attraverso questa guerra è una sua preoccupazione durante questa guerra, cioè in questi cento giorni, Macron si è rivolto ad un capo di governo usando queste parole lei non può parlare perché è un antisemita autocratico non si è rivolto a Putin, si è rivolto al capo di governo polacco dentro questa guerra, testuali, parole di Macron perché? Perché Morawiecki gli rimproverava di parlare troppo con Putin la Polonia, ovviamente per legittime ragioni storiche è all'avanguardia in funzione antirussa insieme agli altri tre paesi baltici questo che vuol dire che cosa vuole la Francia ciò che la Francia vuole, vorrebbe, mettiamo la condizionale è la possibilità che oltre questa guerra la Russia non scompaglia e che gli americani non tornino in massa sul continente attraverso la Nato per essere molto chiari perché il famoso 2% di spesa del PIL in difesa è legato alla Nato a volte c'è molta confusione, ce lo chiede l'Europa è una locuzione tremenda ma comunque, di tanto riemerge è il complesso di inferiorità massimo di questo paese ma comunque, al di là di ciò, non ce lo chiede l'Europa ce lo chiedono gli americani e gli altri paesi della Nato che è una cosa un po' diversa questo Macron lo sa molto bene in più ci mettiamo il riarmo della Germania Germania ha annunciato 100 miliardi non è un refuso 100 miliardi di euro e riarmo a fondo perduto e poi il raggiungimento del 2% del PIL esattamente come richiesto dalla Nato per la difesa che la porrebbe, usiamo anche quel condizionale al terzo posto al mondo per il bilancio militare dopo due paesi non male, Stati Uniti e Cina è chiaro che dal punto di vista francese i francesi hanno l'arma nucleare e un'idea imperiale di sé che rimane anche oltre la realtà legata alla francofonia eccetera eccetera è già anche questa una preoccupazione per cui nei prossimi mesi Macron rilancerà fortemente le forze armate europee sapendo che finché ce l'ha Nato è molto complesso realizzarle perché vorrebbe imbracare il riarmo tedesco dentro le forze armate europee come arrivare a tutto ciò non è chiaro ma lo stesso Macron non lo sa perché poi la Francia invia le armi ma lo stesso Macron anche perché è il punto che è la domanda diciamo in questa fase qui questo si traduce in una maggiore apertura nei confronti di Putin nel non invio delle armi in una pressione su Zelensky questa è la domanda cruciale nel senso nel tecnico nello specifico la posizione è molto complessa cioè Macron non riesce ad attuarla perché ovviamente non è che tifa a differenza di qualcuno a Casanosa non è che tifa per Putin anzi la Francia invia armamenti cioè è convinta che soltanto gli armamenti possono condurre allo stallo e quindi al negoziato esattamente una posizione contraria a molti dei pacifisti che vedono a volte in Macron una sorta di alfiere non è questo il punto ciò che Macron vorrebbe dopo lo stallo tirare comunque la Russia verso di noi anche questo è molto complesso perché è un paese che è agito così come lo riporti dentro un consenso allargato a livello europeo non lo sa neppure Macron tutto ciò che Macron sa è che non è nel suo interesse e neanche in quello dell'Europa secondo Macron che gli Stati Uniti tornino in cabina di regia in questa vicenda su questo Macron è molto chiaro perché chiudo ricordando è molto complesso e molto chiaro l'analisi Putin se ne deve andare il giorno dopo Macron dice sembrava Nanni Moretti attenzione le parole sono importanti testuale attenzione all'escalation di parole e grazie a tutti Grazie a tutti